Ma direi un'esplosiva, no? Sti coglioni che fanno la statua e mettono un cannone di piazza Ma cosa serve questa piazza? A niente Ma poi cosa ti rimane dopo che hai costruito una statua? Siete italiani Bella mira Ludo, bella mira Adesso devi rimborsare la nave dell'esplosiva che hai buttato in fondo all'oceano Piove, cosa pensi di fare con le due incendiarie? Non hai il potere insieme Tu non hai alcun potere qui